Eccomi qua, sono Michele Dantini, sono un collaboratore di Wikiradio, mi occupo di arte contemporanea, di storia della critica, di storia della cultura. Abbiamo conversato insieme di Carla Lonzi, di Alighiero Poetti, di Paul Klee, di Joseph Beuys, di Ardengo Soffici e altri. Trascorro qui a casa nel mio studio in modo relativamente confortevole e soprattutto rispettoso questo periodo di quarantena, ho due piccole che mi preoccupo molto di motivare, avere due piccole la prima di due anni e mezzo e la seconda di nove anni senza più scuole, senza più routine, senza più babysitter per mamma e papà è un po' complicato, soprattutto la piccola. Ma in questo periodo ho scoperto le virtù quasi taumaturgiche dell'ascolto radiofonico, ho riscoperto, ho approfondito e anche facendo lezioni a distanza, insegno storia dell'arte contemporanea all'Università per Stranieri di Perugia e quindi anch'io sono tra i tanti che sono stati chiamati a fare didattica remoto, ho scoperto come l'esercizio radiofonico precedente mi ha aiutato molto in questa nuova dimensione di didattica digitale, parlare, raccontarsi, raccontare, confidare nella voce, nella dimensione quasi terapeutica diciamo così, propizia alla concentrazione della voce, la voce che favorisce l'intimità, confidare nella magia, nella piccola magia quotidiana dell'ascolto. Ecco tutto questo io lo trovo, lo ritrovo oggi nella didattica a distanza anche attraverso il ritorno, l'opinione di ritorno dei miei studenti che hanno, che apprezzano, che apprezzano questa nuova modalità di fare lezioni, di partecipare tutti insieme a seminari lezioni e naturalmente questa piccola magia ha la sua manifestazione quintessenziale nella voce. Quindi mentre vi rivolgo un carissimo saluto non posso che dirvi ascoltate, ascoltiamo tutti insieme la radio, ascoltiamo Wikiradio che è un po' come la nostra biblioteca affettiva, la nostra biblioteca o una delle nostre biblioteche di riferimento e che in questo periodo può tornare preziosa come è più del solito e al tempo stesso rispettiamo le norme di prudenza per noi, i nostri cari e l'intera collettività. Un caro saluto Michele Dantini.